Ciao a tutti ragazzi, qui vi faccio vedere un'armaggio di Barbie Si apre in questo modo Ed ha qui un appennino E adesso vi spiego cosa comprende precisamente Vabbè comunque che è tutto rosa, fucsia e... Vari cose E adesso vi spiegherò tutti gli altri stori Oh mio Dio, cosa ho fatto? Ok, sono pazza, un secondo solo che... Ma cosa faccio? Praticamente stavo cercando l'applicazione sui telefoni per farvi vedere Crash Royale Ma all'improvviso... Non so cosa ho combinato con quei rumori... Vabbè, lasciamo aperto Fatti finta che non è successo niente E poi comprendi... Oh no... Oh no... Anno Daniela Hai, il王松か Io ho parBo Hai, il LuV E poi per risque Grazie per la visione!